Grazie. Buonasera a tutti e grazie di essere qua. Scusateci se vi abbiamo fatto aspettare qualche minuto in più, ma come sempre in questi anni facciamo per questi eventi, come per gli eventi istituzionali, sempre la diretta streaming. Oltre a quelli che siamo qua, quelli che seguono i nostri canali social, il nostro sito, potranno vedere i lavori di quest'oggi. Oggi è una giornata storica, l'estate è stata ieri per il nostro territorio, perché come ho detto in Consiglio Comunale, parte prender via la medicina del futuro. Siamo tra i pochissimi comuni in Calabria ad aver concluso l'iter di approvazione del piano strutturale comunale. 15 comuni in provincia di Cosenza, se non sbaglio 37 in tutta la regione su altri 400 comuni. Se non è storia questa, io non vedo cosa possa essere per un'amministrazione scrivere una pagina amministrativa appunto che guarda futuro e che cambia le sorti di una comunità. Dicevamo ieri in Consiglio Comunale, ogni 100 anni si approva uno strumento di pianificazione del territorio, no? Il nostro PRG era degli anni 80, siamo nel 2023. Ci vorrei del 2100 forse per approvare un nuovo strumento di pianificazione, uno strumento di pianificazione che proveremo a raccontarvi come lo abbiamo pensato. I cittadini sanno però come lo abbiamo pensato perché, come abbiamo detto più volte, al centro di questo PSC non ci sono le strade, i viali, i parchi, che pure vedrete, ma ci sono stati cittadini. Incontri, partecipazione, condivisione, proposte che poi ci hanno portato a questo strumento che diventerà operativo nei prossimi giorni, una volta pubblicato sul BULC, cioè sul BULC, cioè sul BULC, qui c'è la regione Cale. Sono qua, oltre che con tutti voi e con l'amministrazione, c'è il Vigie Sindaco, consiglieri, assessori, con l'assessore Puccarelli, che è l'assessore all'urbanistica, gli facciamo un applauso. Il lavoro che mi ha portato avanti in questi anni è stato un lavoro difficile, ripeto, se siamo così pochi comuni ad aver realizzato tutto ciò vuol dire che c'è bisogno di un lavoro più complicato, seguire l'Iter, portare avanti il progetto e controndarsi con tutti gli edizioni comunali. Quindi da parte mia va a lei un grande ringraziamento, come a tutta l'amministrazione e a tutto il Consiglio Comune, perché ieri all'unanimità è stato portato il piano, segno evidente che il lavoro che abbiamo fatto è stato condiviso da tutte le forze politiche presenti nella nostra città. Alla mia sinistra invece l'ingegnere greco e l'architetto Contoviera, mi devo ora un applauso, gli hanno seguito la parte tecnica, la parte tecnica. Ma come sapete il piano strutturale comunale è uno strumento di pianificazione del territorio che non coinvolge solo i nostri compini amministrativi. Vede in tutti gli altri enti, Mirma credo dopo lo ricorderà o Roberto lo ricorderanno, la competenza di pianificazione ha visto decine di enti coinvolti. E visto che ho citato i comuni della regione Calabria, ho citato il fatto che tanti enti sono stati coinvolti, prima di aprire e di entrare nel vivo in questa discussione con gli aspetti che più riguardano i cittadini e i medicini e forse di tutta l'area urbana, abbiamo onore e il piacere di avere con noi il vicepresidente del Consiglio regionale, l'onorevole Pierluigi Caputco, a cui vi chiederei di portare. Grazie per l'invito e complimenti, complimenti perché come dicevi bene, questo non è un piano che i comuni riescono ad approvare facilmente, ma invece sono percorsi difficili perché grazie purtroppo alla legge regionale, la 19-2002, che complica un po' le cose, però comunque bravi perché siete riusciti a uscire dalle maglie della burocrazia che questa legge impone. Quindi complimenti, un ottimo lavoro, io non conosco i dettagli, però ho detto qualcosa, si parla di consumo di suolo zero, si parla di centro storico, si parla di ambiente, natura, i barchi che sono presenti, i percorsi naturalistici che sono presenti a medicino, sono di un'importanza unica nell'area urbana di Cosenza. Quindi complimenti anche per l'attenzione che avete dato a queste tematiche. Dicevi 37 comuni su 400 comuni calabrese in totale, è un dato che ci fa pensare perché la burocrazia che la legge regionale, questa legge regionale, la 19-2002, la legge regionale urbanistica, purtroppo non dà spazio, c'è da spazio a lentezze, come anche su Cosenza noi abbiamo lavorato dieci anni con un documento per eliminare e approvato, poi siamo riusciti soltanto ad adottarlo in consiglio comunale, poi si è fermato, quindi è un interparaginoso, ciò non aveva le osservazioni, poi mi ricordo in consiglio, poi in passaggio alla legione. Quindi è importante però perché approvare uno strumento del genere dà la possibilità, un tempo quando si presentavano i piani regolatori generali, addirittura i vecchi programmi di complicazione, c'erano le sale piene, la gente era interessata a capire il destino delle proprie proprietà, dei propri terreni, oggi vedo che comunque il medicino partecipa, ma sicuramente con abbattimento di circa, aiuta di 157 ettari, che non sono pochi per il medicino, si tende a ridurre questa volumetria, questa cubatura che invece era presente nei precedenti piani regolatori generali. Quindi comunque si va verso la conservazione, si va verso la riqualificazione, si va verso il recupero dell'esistente, questo è un dato che è sotto gli occhi di tutti. Io vorrei ascoltarvi perché chiaramente da esponente del governo regionale sono qui a farvi complimenti, ma sono qui anche ad ascoltare, insomma, a vedere quello che l'amministrazione ha fatto, un'amministrazione che comunque si qualifica per le tante opere fatte in questi dieci anni, siete a conclusione, sono Antonio, la conclusione del secondo mandato, quindi sicuramente è un consultivo che vi dà a rendere orgogliosi, insomma, di aver amministrato una comunità che è alle porte della città, sulla fusione avete visto qualcosa, no? E quindi è la giusta, è la giusta importanza quella che avete dedicato, che è in un voto unanime e oggi qui per presentare, insomma, questo progetto di pianificazione per la medicina che verrà. Quindi complimenti e grazie ancora per l'opportunità. Grazie a un vicepresidente al Consiglio regionale, non solo per le sue belle parole, non solo per il suo supporto, la sua presenza istituzionale importante. Noi in questi anni abbiamo creduto molto nelle istituzioni. Devo dire che siamo stati sempre molto attenti a non confondere la politica, come viene considerata spesso, con le istituzioni. Devo dire che da sindaco ho avuto straordinari rapporti, non solo con tutti gli altri sindaci dell'Area Urbana, di prima, di oggi, di domani, in questo ultimo anno, ma anche con la Regione Calabria. che anche in questo frangente ci è stata vicino, perché in tanti passaggi che Luigi lo ricordava, mi permetto di chiamarlo per nome, perché mi onoro della sua amicizia, la sua disponibilità sempre costante, la sua presenza sul territorio. Devo dirlo e mi fa piacere, perché quando uno si impegna per il territorio, è bene che gli altri lo dicano e lo riconoscano. Quindi c'è un rapporto, evidentemente, le mie parole tradiscono anche un'amicizia personale. E quindi, grazie per essere stato qui, ha ricordato la parraginosità di questa legge. Ieri lo abbiamo detto in Consiglio Comunale, l'abbiamo detto dai banchi alla maggioranza, anche dai banchi alla minoranza. Io l'ho sentito dire a tanti altri sindaci, perché quando siamo partiti, nel 2014, io ricordo che tante altre amministrazioni stavano portando il preliminare in Consiglio Comunale. Noi abbiamo approvato, adottato, riapprovato, ria adottato il definitivo e molte amministrazioni ancora sono alla prima approvazione del preliminare, anche in Italia Urbana. Qui è evidente che la politica è stata capace di superare quegli ostacoli burocratici di cui, intelligentemente, con competenza, perché conosce le cose di cui parla, ci parla ora il vicepresidente del Consiglio regionale Pierluigi Caputo. Un ruolo determinante ai ruoli autotecnici e vedo in sala l'architetto Daniela Francini, la voglio ringraziare anche a lei, facciamo un applauso con tutto il curro, meno anche già favoroso, Francesco Conforti, e poi vi citeranno meglio di me di chi quanti la stessore Buccarelli e l'ingegnere greco. Ma visto che i tecnici sono importanti, è un piacere stasera avere anche con noi l'ordine degli ingegneri, che tra l'altro è l'ordine di tre, quindi siamo particolarmente contenti di avere i nostri rappresentanti istituzionali, professionali, e quindi darei la parola, anche se sono presenti in sala, anche Fiorella Gallo, altra consigliere dell'ordine degli ingegneri, Gigi Catanzaro, presidente della Fondazione Mediterranea, darei la parola a Mariangelo Speranza, a nome dell'ordine degli ingegneri e del presidente, l'ingegnere Marco Bionna. Grazie. Grazie e buon pomeriggio, sono appunto delegata da parte dell'ordine di Gigi, in quanto consigliere dell'ordine, e un po' i saluti del presidente, che purtroppo non è riuscito ad aggiungere qui, questa bellissima, insomma, è bella, è una bellissima occasione, e niente, saluti da tutti i consigli, e soprattutto i complimenti, i complimenti per quello che siete riusciti a ritenere. Infatti l'ordine, l'obiettivo dell'ordine è anche quello di essere vicino alle amministrazioni, amministrazioni soprattutto quando sono così vipose, che sono riuscite in questo compito, con una veramente forte tenta, perché non è facile, perché moltissimi comuni, sappiamo che, hanno intrapreso questa lungagine di inter, che deve portare comunque a un complimento, ma se non ci sta veramente di aere, troppo troppo. Ed è per questo che appunto dico che questo piano porterà veramente un'innovazione grandissima al territorio medicinese, perché era doveroso attuarlo, attuarlo perché era diventato un sorello quello precedente. Io personalmente lavoro anche, proprio al Comune di Medicino, e devo dire che adesso sicuramente sarà molto più semplice, ecco, appoggiarmi alle normative, che rispecchiano l'orografia, ma anche geologicamente, in vista di quello stesso. Quindi complimenti, complimenti, e spero che il Comune di Medicino sia da volito e da sprono a tutti quei comuni che stanno tentando, o comunque sono meglio di approvazione. Complimenti ancora. Proseguiamo subito, do la parola, c'è anche l'ordine dei geometri, c'è Giuseppe Aliglia, anche a lui chiedo di intervenire con un breve saluto, in modo poi da entrare nel vivo della nostra escursione. Grazie. Grazie. Grazie Silvaco, grazie Assessore, grazie all'Amministrazione Comune di Medicino. Devo apporto favorevolmente l'invito, non potevo essere diversamente, perché la categoria dei geometri, che ho perso il ruolo, che mi vede a capo del collegio, come profondi conoscitori del territorio, non poteva mancare a questo appuntamento. Diciamo che quando si parla di verificazione territoriale, quando si parla di territorio, urbanistica, la nostra categoria, voi non vuoi, per la storia, per la conoscenza, per il fatto di essere fortemente radicato nel territorio, non può mancare a questo appuntamento. Un applauso a voi, perché ho ascoltato i numeri, noi li vediamo, diciamo, li conosciamo, li conosciamo purtroppo, quello che dicevamo l'onorevole Caputo, quando a volte la parogelosità delle leggi un pochettino vincolano i voi comuni, e vedere che il Comune di Medicino è riuscito a portare a condimento, diciamo, un percorso, e noi tecnici sappiamo perfettamente la difficoltà che si attraversa poi quando si va negli enti sovracomunali, non può che non essere per voi un motivo di valido, anche perché uno strumento urbanistico, qual è il piano strutturale comunale, vuol dire a mondo avere avuto una visione, avere avuto quella capacità, quella voglia di proiettare al futuro un territorio, e inevitabilmente con il piano strutturale si va a dare le obiettive, no? e uno sviluppo socio-economico del territorio, quindi da parte vostra, da parte di Cine di Prosenza, veramente conveniente ancora, grazie per l'invito, e che dire, buon prosieguo, e mi scuso se dovrò magari abbandonare il sito del lavoro, ma non intendo le vostre attività. Grazie. Grazie di cuore, grazie a tutti voi, davvero, le vostre presenze istituzionali hanno reso l'iniziativa di oggi ancora più importante, quindi voglio davvero ringraziarvi tutti. Io ora entrerei nel vivo della discussione, darei la parola all'assessore Ilma Bucarelli per illustrarci, ecco, più da vicino, forse non riusciamo, ma l'avete visto entrando molte planimetrie di come quello che lei ci racconterà verrà realizzato sulla carta e quindi darei la parola a lei per i contenuti del GFC per raccontarci quali saranno da qui ai prossimi anni a chi verrà dopo di noi, il compito arduo di portare avanti queste realizzazioni che noi abbiamo immaginato, nuove strade per l'area urbana importantissime in vicino è, credo, con Castolibero la città residenziale più importante dell'area urbana. Mi permetto di dire, non lo diciamo ai camici Castolibero, oggi forse la più importante città residenziale dell'area urbana. Il vivere, il vivere, la qualità della vita e quindi i parchi di cui pure parlava l'onorevole Pierluigi Caputo, la scelta di fondo dei tecnici e dell'amministrazione del consumo di suolo zero, anzi, dovremmo iniziare a cambiare le parole, consumo di suolo meno, visto che andiamo dietro, togliamo nuovo cemento e diciamo ricostruiamo le cose vecchie, costruiamo nel modo moderno. Ecco, con questi spunti do la parola a Irma che invece in modo molto più discorsivo, argomentato, chiaro ed esplicito di come un fattoreito ci farà entrare nel vivo in questo nostro piano strutturale comunale. Grazie. Grazie Sindaco e grazie a tutti i presenti, ringrazio i tecnici, gli esponenti dei vari ordini, i tanti amici, gli esponenti di ordini, l'onorevole Caputo, l'ingegnere Cattanzaro che non abbiamo avuto un onore di sentire ma che ci ha poi rubato tanto anche in questi giorni e tutti i colori che hanno già diciamo relazionato. Ringrazio i cittadini presenti, oggi per noi è un giorno importante, è un giorno importante perché per noi segna un punto d'arrivo iniziato nove anni fa appena interiati nel 2014 abbiamo iniziato a intraprendere ad avviare lavori e a riprendere un percorso, un quadro conoscivivo acquisito che abbiamo in qualche modo rivoluzionato rivoluzionato non sulla base di scelte soggettive ma basandoci sulla sforza dei cittadini abbiamo iniziato a fare una serie di incontri partecipati molto partecipati nei vari quartieri e da lì abbiamo acquisito le volontà dei cittadini soprattutto le volontà di cambiamento l'itero è stato lungo come giustamente diceva il sindaco e anche l'onorevole caputo molto lungo l'itero burocratico vi dirò in tanti frangenti quasi parraginoso con l'ufficio tecnico con l'ufficio del piano con l'architetto Brancini che anch'io ringrazio per la presenza abbiamo fatto un lavoro di continuo anche solo di ascolto ieri dicevo in conti a volte ci siamo anche dovute scontrare perché magari i bitter non andavano giù per il basco con le nostre volontà e quindi abbiamo visto tanti rallentamenti tanti momenti in cui avremmo voluto un po' mollare ma con ostinazione siamo andati avanti devo dire sulla base dei numeri di questi numeri che ci sono innanzi per i comuni che hanno completato l'itero possiamo ritenerci soddisfatti oggi lasciamo finalmente mettiamo in piacenza il vecchio PRG vecchio di 40 anni e lasciamo da parte anche un po' la sua logica il PRG come logica di suddivisione del territorio in zone omogenee una visualizzazione quindi la suddivisione in aree edificabili in aree edicole è un po' anche la logica dell'imprenditore edile la mettiamo da parte a favore di questo nuovo piano di questo nuovo strumento urbanistico che punta ad altro diciamo l'obiettivo principale è quello di rispettare il territorio valorizzarlo ascoltare la cittadinanza l'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo economico del territorio partendo dalle risorse di cui dispone quindi mediante la tutela del territorio la valorizzazione dei centri storici e del paesaggio delle risorse economiche antropiche culturali quindi è una ripartenza dal basso partendo proprio dal territorio e dalla comunità sicuramente è importante uno degli obiettivi del PSC del piano strutturale comunale è quello di definire l'assetto e l'uso del suolo oltre che i piani attuativi quello che saranno i successivi atti di pianificazione l'approccio cambia ma cambia anche il punto di partenza noi ad oggi abbiamo non un punto d'arrivo come dico spesso ma è un punto di partenza abbiamo delle fondamenta abbiamo costruito delle fondamenta e il piano rappresenta una vera e propria piattaforma che è il compito di recepire la propositività che emerge dal territorio dopo averne valutato la sostenibilità di sostenerne anche le azioni queste azioni che devono poter governare gestire diciamo le problematiche e governarne anche le criticità siamo figli e questo non dobbiamo dimenticarlo di una generazione caratterizzata come TRG da scelte preordinate da regole predeterminazioni idee progettuali definite a morte che spesso e volentieri non sono andate di fari passo con lo sviluppo economico delle varie comunità ad oggi ci troviamo noi siamo i figli delle delle collate di cemento ci troviamo tanti palazzoni tante strutture che in qualche modo rimediamo anche e ad oggi oltre a puntare alla valorizzazione dei resistenti per il di storico di naturalistico dobbiamo fare i conti anche con tante culture quello che possiamo approcciarci a fare è puntare alla valorizzazione alla riqualificazione alla riqualificazione urbana e cercare di rendere omogeneo e rendere qualificare quindi rivalutare quello che è esistente non dobbiamo in questo momento l'ente locale è un compito importante perché è quello di aiutare gli imprenditori intelligenti i cittadini attivi ad attuare nuove visioni l'ente locale deve aiutare anche le iniziative private sempre nell'ottima della tutela della pubblica autorità il piano strutturale comunale che abbiamo approvato ieri in consiglio come anticipava il sindaco per mia e nostra grande orgoglio averlo approvato all'unanimità consta di quattro macro progetti si suddivide in quattro macro progetti e intanto l'orgoglio di averlo approvato all'unanimità legato al fatto che evidentemente questo piano rispecchia la realtà rispecchia la volontà comune e la volontà di cittadini i quattro macro progetti in cui si suddivide il nostro piano strutturale innanzitutto il primo di cui abbiamo un po' parlato già prima nei commenti è quello della tutela del suolo manutenzione del suolo il rispetto del suolo e puntare a una riduzione dell'edificabilità siamo il consumo zero in suolo siamo riusciti nel piano strutturale a tagliare rispetto al vecchio piano regolatore 60 etter di edificabilità e complessivamente tenendo conto anche di aree amicole prima parzialmente edificabili siamo riusciti a tagliare complessivamente 157 etter che hanno trovato ovviamente qualche cittadino scontento però il territorio credo che tra qualche anno ce ne ringrazierà altro progetto importante è quello legato ovviamente alla natura all'apparato alla parte storica alla parte naturalistica del territorio sono previsti nel nuovo piano strutturale la nascita di quattro parchi importanti il parco pluviale storico e naturalistico del Caronte che parte da Cosenza più o meno in prossimità della riforma e sale fino al centro storico di Mendicino attraversando il fiume Geronte e la prospettiva sarà quella di realizzare un percorso naturalistico da percorrere diciamo a piedi diciamo attraverso il trekking e che ci porterà fino al centro storico fino al nuovo parco pluviale del torrente americano e arrivare fino al nuovo al nuovo di San Nicola il castello visti sicuramente sotto un'altra prospettiva altro parco molto importante è il parco archeologico di San Michele che ospita le grotte delle panze e poi il terzo il quarto parco il parco di Montecuzzo che già oggi rappresenta uno dei polmoni verdi uno dei diciamo dei polmoni verdi un po' della provincia di Cosenza abbiamo l'altro progetto di fianco a quello del consumo zero di suolo a quello legato alla storia cultura e natura quindi legato ai parchi è quello di creare della rigenerazione urbana quindi sono previsti due nuovi dialoghi il cosiddetto parco lineare attrezzato identificato nell'area del videotipo di Lentino San Paolo quindi anche lì un percorso non veicolare una percorrenza lenta e poi l'impatto delle mura verdi in prossimità dell'arbre di Contra del Rosario diciamo sarà questo polmone verde che circonderà tutta la zona urbanizzata e altro punto l'ultimo progetto fondamentale per i macrocardi diciamo vedrete scorrere un po' piano le foto è quello legato alla mobilità abbiamo previsto una mobilità veloce fuori dai quartieri una mobilità lenta tra le vie di comunicazione e di circolazione abbiamo progettato l'ufficio del piano siamo un ufficio testico e sono state progettate delle nuove strade una strada che permetterà di collegare il videotipo Lille con il fastidio libero passando attraverso acqua fredda diciamo lungo decorrendo la località dei pastuali e poi altre due strade che collegheranno la chieduncia una con Pasquali e l'altra con il rosario corrispondenza dello Sporting quindi diciamo che abbiamo suddiviso in quattro macro progetti macro aree all'interno dei quali c'è tanta roba e da qui in poi come dico da questa piattaforma che oggi e ieri abbiamo approvato da cui partiamo bisognerà iniziare a lavorare io guardo già a domani perché domani dobbiamo iniziare operativamente a mettere sul campo quello che abbiamo progettato quindi da domani da domani metaforico perché pubblicheremo sul book dopo l'ingegnere greco ci darà quei tempi pubblicheremo sul book da quel momento in poi sarà operativo ma si tratta di giorni e da lì in poi sarà possibile mettere in alto il piano il tuo avivio è un altro piano a cui io tengo particolarmente il piano di recupero del centro storico che sarà una delle prime cose che noi o insomma nel successivo mandato di Citalà porterà sicuramente all'antica quindi diciamo da oggi per noi è un punto di arrivo ma io dico che oggi è un punto di partenza grazie a tutti ovviamente sulla parte finale l'ingegno ho fatto un piccolo scongiuro perché speriamo che ci sia una altra cosa allora do la parola do la parola all'ingegnere greco che invece ci parlerà dell'inter che abbiamo seguito ne abbiamo parlato in modo critico prima da quello che ci racconterà vedrete le voce caudine che abbiamo dovuto superare per arrivare ad oggi salve buonasera a tutti siccome non ci credevate non avete creduto a quello che vi hanno raccontato prima di me io ho 350 pagine diciamo in cui si riassume l'iter di questo questa approvazione vando agli scherzi si è iniziato il punto nel 2014 con diciamo l'analisi del quadro conoscitivo e con l'approvazione del preliminare in cui i nostri tecnici incaricati hanno dato una visione a un'analisi dello stato di fatto di quello a cui ci aveva portato l'applicazione del nostro PRG perché il comune di Mendicino è stato dotato di PRG dal 1986 come è già stato detto e ha portato a una conformazione urbanistica del territorio che gli definita l'analisi di tutto ciò è concluita nell'approvazione della delibera del Consiglio Comunale del 2016 di aprile del 2016 con la quale si è dato il via all'apertura della conferenza di pianificazione che era un passaggio obbligato per mettere al corrente tutta la cittadinanza e soprattutto gli enti sovracomunali di quanto è stato analizzato e valutato all'interno del progetto preliminare tutti gli enti sono stati messi a conoscenza e convocati e con loro trasmettendo a loro la documentazione del preliminare si è avviato un processo di recepimento di vari pareri relativi alla componente geologica relativi alla componente sindical relativi alla componente ambientale quindi tutti i dipartimenti regionali la maggior parte dei dipartimenti regionali sono stati contattati e coinvolti e a seguito di laboratori con i cittadini incontri presso gli uffici regionali provinciali ANAS tutti gli stakeholders che sono stati interessati alla formazione di questo piano strutturale si è riusciti dopo ben due anni quindi nell'aprile 2018 a chiudere i lavori di questa conferenza di pianificazione in quanto erano state appunto ottemperate si era ottemperato alla realizzazione di questi incontri con i cittadini e all'ottenimento soprattutto dei pareri vincolanti da parte di questi enti di questi enti sovracomunali si chiuse la conferenza di pianificazione e si modificò quello che andava a modificare conseguendo le indicazioni dei vari dipartimenti regionali dei vari enti quindi ad aprile è chiusa la conferenza di pianificazione a novembre del 2018 riusciamo ad adottare il piano culturale e comunale definitivo e lo stesso diciamo diventa entra in vigore sotto forma di non di salvaguardia che significa che adottando il PSC definitivo le regole di ingaggio per la realizzazione dell'edificato del Comune di Medicino diventano devono soddisfare entrambi i piani comunali il vecchio e il nuovo quindi per costruire la villetta il committente il tecnico doveva e è dovuto stare attento a rispettare tutte e due le regole le regole vecchie e le regole nuove quindi non doveva contrastare per cui questa situazione un pochettino ha diciamo destabilizzato e ha portato pure un po' di rallentamenti nell'esecuzione di un'edilizia privata tralasciando il fatto che poi successivamente tra Covid e quant'altro c'è stato altro di che preoccuparsi e definito il definitivo è stato necessario un ulteriore passaggio in questo punto dalla legge cioè quello di pubblicare sul book la sua adozione e invitare tutti coloro avessero delle osservazioni da fare a presentarli formalmente nel termine di 60 giorni presso l'ufficio comunale l'ufficio tecnico comunale e questi 60 giorni che sono andati dal gennaio 2019 al marzo 2019 abbiamo ricevuto 66 osservazioni da parte dei cittadini queste 66 osservazioni corredate appunto da documentazione tecnica e corredate da richieste di cambio di destinazione piuttosto che approfondimenti e che hanno interessato le singole particelle di proprietà dei cittadini sono state puntualmente è stato necessario analizzarle una per una da parte dell'ufficio del piano dei tecnici incaricati e hanno praticamente portato a una risposta di accoglimento o di dimievo per ogni singola osservazione quindi queste 66 osservazioni sono state nel maggio del 2020 quindi a distanza di un anno e mezzo riportate in consiglio per la loro approvazione o dimievo e votandole pensate al consiglio comunale una per una una per una significa proprio con l'alzata di mano per 66 volte in modo tale da approvare o dimiegare ogni singolo intervento e al termine di ciò che cosa abbiamo dovuto fare abbiamo dovuto trasmettere l'agenda il nuovo piano modificato con questo accoglimento o meno di osservazioni e abbiamo dovuto nel novembre 2020 mandarlo e trasmettere al dipartimento urbanistica del settore ambiente e il parere motivato finale quindi il parere motivato definitivo sul piano che si era formato e che si era adeguato a queste osservazioni che erano state raccolte e questo perché si è concluso l'iter presso questo dipartimento valutando anche in modo tale che il dipartimento potesse analizzare e valutare dal punto di vista ambientale lo strumento urbanistico quindi si è concluso e si è investito in questo il procedimento della VAS che è la valutazione ambientale strategica che ha portato a diciamo far verificare che tutto il PSC fosse coerente e conforme e all'interno di tutti i quadri sovracomunali provinciali e regionali che hanno diciamo per la regione Calabria dettato le linee guida all'interno quindi la cornice all'interno della quale noi ci dovevamo ci dovevamo more a gennaio di quest'anno precisamente il 27 gennaio con decreto la regione Calabria ha premiato i nostri sforzi ha premiato gli sforzi dei tecnici soprattutto dando appunto rilasciando il decreto 1119 con il parete favorevole per la sua approvazione finale e quindi è di ieri appunto l'approvazione definitiva del nostro piano strutturale tonale che come già è stato detto ha comportato diciamo una programmazione un'analisi una valutazione e una proposizione di indirizzi totalmente nuovi rispetto al vecchio che hanno diciamo sottratto ad edificazione tanto terreno soprattutto in considerazione in virtù del fatto che siamo in una regione ad alto rischio di dissesto idrogeologico per cui tante aree che diciamo inadvertitamente erano state inserite nelle zone edificabili ne sono state sottratte e adesso l'ultimo passo sarà quello appunto in questi prossimi giorni di pubblicare tutto sul sito di pubblicare l'avvenuta approvazione sul GURG Calabria e su un quotidiano di tiratura regionale e nello stesso giorno in cui sarà pubblicato sul GURG questo avviso avrà piena operatività e per noi saranno dolori il nuovo piano strutturale comunale nella sua piena efficienza vi ringrazio per l'attenzione non erano le 150 parti ma per gli uffici comunali sono sempre dolori perché noi ci dobbiamo muovere dobbiamo camminare dobbiamo fare le cose quindi ci siamo noi dobbiamo camminare volevamo e volevamo citare a conclusione diciamo dell'intervento dell'ingegnere greco tutti i tecnici sempre sono stati occupati io prima ho detto l'architetto D'Agnuno Brancini l'assessore Bucarelli vi citerà tutti e vi chiederei di fare una cosa per il mio loro perché sono quelli che hanno lavorato a descrivere sulle carte quello che poi noi invece abbiamo raccontato come parola grazie grazie allora va beh architetto D'Agnuno Brancini l'abbiamo per la prima grazie l'abbiamo architetto l'abbiamo manca Carlo ingegnere Conforti Francesco ingegnere Rosa Gianpaolo il gioco alto battaglio il gioco lo tracasso e i dottori forestali Giuseppe Confortella e il dottore forestale Pasquale Aulia io ovviamente a questo punto ringrazio invece il coro del comune il nostro ufficio paesco e posso dire il mio essendo l'assessore non me ne vogliono gli altri assessori presenti ma l'ingegnere Roberto Greco il nostro responsabile della tecnica l'architetto Rosetta Dottoriero e come ho fatto ieri non me ne vogliono ma devo ringraziare il nostro giovane per il chiedere Potera che è in pensione ma rimane lo zocco lo duro dell'amministrazione e per il piano strutturale è stato veramente nel mio braccio destro ci ha mollato un po' sul finire però abbiamo cercato di sopravvivere alla sua assenza grazie a tutti per la presenza visto che tra qualche mese no tra qualche giorno va in pensione e visto che noi abbiamo realizzato tutte queste cose davvero c'è anche a fianco tra amministrazioni quindi ruolo politico e burocrazia ruoli dirigenziali e dipendenti amministrativi è vero da Val Bassalini in poi questi due ordini spesso ma di incompleto lo vediamo nei ministeri lo vediamo la regione Calabria in tutta i corsi alla regione i presidenti della regione i direzioni generali dei vari impattimenti anche nei comuni un po' è così noi devo dire siamo riusciti per capacità di entrambi a tararci e a trovare il giusto punto di calura perché noi quello che volevamo fare è fare le cose per il nostro territorio per i nostri cittadini e la burocrazia ha colto questa sfida e devo dire a volte dobbiamo credo che Irma c'è l'accordo Angelo c'è l'accordo chiedervi anche scusa perché in una realtà quella italiana in cui spesso la pubblica amministrazione va a rilento noi gli abbiamo chiesto uno sforzo di velocità e di capacità perché le cose si possono fare velocemente ma male noi abbiamo provato a farle velocemente ma bene credo stasera è stato l'esempio e visto appunto che sarà una delle ultime uscite pubbliche e lo vedo in sala vorrei che facessimo una pausa all'avvocato Filippo e per noi sono stati quelli davvero novoli per quest'ultimo anno di amministrazione io mi unisco ai saluti dell'assessore Buccarelli e di tutti noi per dirvi grazie di esserci stati credo che possiate essere fieri e orgogliosi di quello che abbiamo fatto nel dettaglio ogni cittadino sul sito del comune su tutti i nostri i nostri organi di comunicazione potranno prendere visione del lavoro volto penso che sia davvero un lavoro storico per la nostra comunità devo dire ogni volta diciamo oggi abbiamo scritto una pagina storica purtroppo è vero stiamo scrivendo purtroppo per qualcuna forse per no per qualcuna sono pagine storiche ne stiamo scrivendo tanto vedo qua un altro caro mio amico come Franco Pitieri che annuisce e lui è un grande osservatore dei fenomeni politici in tutta l'area urbana e si annuisce vuol dire che sto dicendo cose vere che mi inorgogliscono come capo dell'amministrazione facendo un ultimo passaggio io non ho mai pensato che gli uomini sono al comando di favore a quelle cose quando qualcuno si propone dicendomi io 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 provo sempre ad avere poche dubbio onestamente il nostro segreto è di fare i cosi insieme politica e burocrazia sindaco e assessori cittadini che sono stati davvero è peccato poi vediamo di riuscire a far vedere le foto dopo ma l'avete vista entrando ah si stanno vedendo ora le tante gli uomini che abbiamo fatto di questo PFC con le persone in carte rosa le viti che ci sono state nei primi mesi del piano perché tutto è perfettibile no? e quindi alcuni cittadini di alcune contrade non vedevano di buon occhio e li abbiamo anche cambiati perché era giusto cambiare i cittadini ci hanno convinto in altri casi invece siamo stati noi a convincere i cittadini che bisogna avere una visione lungimirante e non l'egoismo della tua sola posizione personale in questo gioco di squadra ci ho per questo di scrivere un'altra pagina storica e quindi davvero grazie grazie a tutti e molto e molto grazie 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 grazie